Sempre nel recupero? Anche prima. Sono una zopre si chiama. Vamos! Ciao! L'ultima sosta, poi ci sarà il rush finale con sei partite. Che idea ti sei fatto? Sicuramente finora abbiamo fatto un buon percorso, come ha detto Manuel, in alcune situazioni potevamo fare meglio, soprattutto a livello di atteggiamento, magari qualche partita. Però il campionato comunque non è facile, ogni partita è diversa. Noi cerchiamo di fare sempre il massimo per poter vincere tutte le partite. Anche se poi non è così facile. Per quanto riguarda la sosta, siamo arrivati bene, lavoriamo bene. Abbiamo due settimane per preparare questo atteso derby. Ci teniamo tanto anche noi, non solo a livello di tifosi, ma anche noi particolarmente ci teniamo. Anche per continuare comunque questo percorso, perché vogliamo fare bene. Simone, un tifoso poco fa ti ha chiesto se te lo conservi al novantesimo un gol per il derby. Sì, me l'ha chiesto io, ridendo gli ho detto anche che farlo prima non sarebbe male. Comunque l'importante ho io, chi per esso, basta che regali punti e emozioni alla squadra. Esterno al centro dell'attacco è uguale? Diciamo che io sono a disposizione, cerco di fare sempre il mio massimo, poi decide il mister dove mettermi in campo. Io cerco di dare il massimo e dare una mano alla squadra per quello che posso in qualsiasi ruolo. Di cosa ti hanno raccontato in città del derby? Tu questo derby non lo conosci, magari ne conoscerai altri, ma di questo derby cosa ti hanno raccontato? No, non lo conosco, ma l'ho iniziato a conoscere perché si parla praticamente solo di questo ormai da tempo, non solo questi giorni, ma anche i mesi precedenti. Sicuramente è un derby atteso, come tutti i derby, perché comunque sono partite a sé, come diceva Manu prima. È carico, carico da parte dei tifosi e ci vogliamo arrivare nel migliore dei modi e sicuramente ci ammetteremo tutte per portare a casa la vittoria. Manu diceva poc'anzi che comunque vale tre punti, ma quanto paura avete di ripercussioni eventualmente in caso di risultato e non positive? No, paura, non dobbiamo avere nessuna paura perché noi ci andiamo a giocare la partita alla Catanzaro sapendo appunto che la partita vale tre punti. È ovvio che vincere da loro, vincere il derby oltre i tre punti ti regala quell'entusiasmo che poi magari può fare bene per le partite finali, però sicuramente la partita vale tre punti e noi proveremo a fare di tutto per poterli prendere.